Oggi siamo qui con un gigante buono Peugeot Boxer 335 L4 cabinato Quello che stai cercando per la tua azienda Iniziamo dalle misure È lungo 6,70 m È largo 2,20 m Ed è alto 3,25 m E ha tutto lo spazio di carico E l'abitabilità di cui hai bisogno Ma è scomodo usare quel roboccio Eccoci all'interno del vano di carico Porte a doppio battente E tantissimo spazio a disposizione Guardiamo insieme le misure È lungo 4,20 m Alto 2,10 m E largo 2,11 m Con una capacità di carico complessiva Di 18,6 m3 Ottimo per scaldasole 3 cubetti 3 pilè e un tovagliato A chi può essere utile questo furgone cabinato? A imprese edili Aziende di trasporto Oppure mobilieri Ma che ne sapete voi? Andiamo Saliamo a bordo E troviamo tre posti comodissimi Con il sedile del guidatore indipendente Come vedete le sedute sono molto larghe Comode E il sedile al centro Può essere aperto E diventa un comodo tavolino Con porta documenti E porta bibite Il sedile del conducente È dotato di poggiabraccio regolabile E il volante ha i tasti Per la gestione delle telefonate In entrata e in uscita E del volume Al centro della plancia Invece abbiamo questo piccolo schermo Per gestire la radio I media E la connessione Allo smartphone Tramite bluetooth Essendo un mezzo da lavoro Gli spazi sono veramente importanti E infatti Peugeot Boxer È pieno di vani portoggetti Abbiamo tantissime mensole Ai lati del volante E tantissimi vani portoggetti Sia nella parte inferiore Che in quella superiore Grazie alle due trese da 12 volt Potrete ricaricare i vostri smartphone E ricevere tutte le telefonate Dei vostri clienti Vi state chiedendo i consumi? Nell'utilizzo misto Servono 8,7 litri di carburante Per 100 km Comodo, capiente e dinamico Scopri tutte le versioni disponibili Di Peugeot Boxer Cabinato dal link in descrizione E riserva l'auto senza impegno Per non fartela scappare E ovviamente Non dimenticare di seguirci Su tutti i nostri social E di attivare la campanella Sul nostro canale YouTube